Buongiorno, è l'11 settembre 2021 e avremo una fine settimana dalle lettere rosse. E dal sermone il buon pastore le pecore del 570308, il fratello Brown dice, avete notato le pecore, le capre, i muli, tutti stanno mangiando lo stesso pascolo, giusto? Beh, ho detto allora, il pastore è di buon cuore, ma ha detto il modo per dire qual è il suo è quando arriva la notte e si fa buio. E ha detto che chiamerà ogni pecora dal campo e verrà lui e prenderà quelle pecore nella stalla o nel recinto e si sdraierà davanti a loro, ma i muli, il bestiame, le capre resteranno nel campo. Ho detto, scusa fratello, volevo solo dire una parola al mio pastore in questo momento. Non mi interessa nessuna teologia, qualsiasi grande laurea o grande persona, tutto quello che voglio è essere un'umile pecora. E quando inizia la notte colpisci la mia fronte, voglio che chiami là dentro e possa essere muli e capre e tutto il resto, altrimenti mangia lo stesso cibo, ma solo un pastore prende le sue pecore solo di notte. Fratello, se stai impersonando il cristianesimo, se hai lo spirito come un mulo e lo spirito come una capra che di ora si diletta in giro per il mondo, uno di questi giorni sta arrivando la notte e non conoscerai la voce del pastore perché non lo saprai riconoscere. E questa sera, e sai cosa significa essere una pecora? Il fratello Joseph Branham. Care pecore dell'ovile di Dio, Nei giorni in cui il nostro Signore era qui sulla terra in carne, gli scettici e gli increduli gli dissero, Fino a quando ci terrai con l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, dicelo apertamente. E ancora una volta, egli ci parlerà molto apertamente, dirà sia ai suoi critici che alle sua sposa, io sono un uomo che viene da Dio, inviato da Dio, ordinato da Dio, con il vero, così dice il Signore. Sono stato nella sua presenza a lungo. Io vi parlerò come Dio stesso. Voglio che non ci siano dubbi e che voi lo crediate. Io sono il messaggero di Dio per voi, il messaggio che io parlo. E il messaggero sono la stessa cosa. Noi siamo uno e lo stesso. Egli mi ha inviato per rappresentare il così dice il Signore. Parola per parola. Ricordate, la parola di Dio dice che Egli non farà niente senza che prima lo riveli a me. Gli uomini vogliono mettere la propria interpretazione a quello che io dico. Ma le parole che io pronuncio per voi non hanno bisogno di nessuna interpretazione. Voi dite solo quello che io dico. voglio anche che sappiate che la stessa parola che io pronuncio per voi vive anche in noi. Voi avete in voi l'autorità del vivente Dio. Voi siete la Chiesa sposa vivente. dopo la mia dipartita ma prima che cominci la siccità Dio ha provveduto per voi un luogo segreto per nascondersi prima che il giudizio colpisca la terra. Voi starete là ad aspettare mangiando questo cibo nascosto che Egli vi lascerà. Voi vivrete nella bontà e nella misericordia della misericordia della rivelazione di Gesù Cristo man mano che Egli rivendica se stesso a voi giornalmente. Per voi esso sarà cibo spirituale nella stongione dovuta farebbe ammalare gli altri allo stomaco io sarò troppo sostanzioso per l'uno ma per voi le sue pecore sarà il pane di vita. Gesù Cristo lo stesso ieri oggi è in eterno. Non dimenticatelo io ti darò a mangiare là in qualche altro non in qualche altro posto là le persone si rideranno di voi e diranno che siete pazzi ma quelli che essi chiamano pazzo e stolto Dio lo chiama a grande. Egli ci ha detto che il grande misterio ministerio che Dio gli ha dato era un simbolo perfetto del tempo di Elia. Dopo che la siccità stava per finire Egli lo chiamò fuori e lo portò a casa di una vedova fino a che la siccità non passò. Egli disse che la vedova non si era associata con gli increduli e non aveva preso il marchio della bestia durante la siccità. Così Egli chiamò Elia a sostenerla. Lei era pronta a morire quando le loro quando le era rimasto una sola piccola focaccia una cosa et su cui faceva affidamento Elia la chiamò a gran voce dal Dallamè prima perché così dice il Signore quel vaso non si svuoterà né l'orciolo si prosciugherà fino al giorno in cui il Signore Dio manderà a pioggia sulla terra lei doveva mettere prima Dio lei doveva credere aggrapparsi ogni parola che il messaggero disse lei sapeva che il messaggero e il messaggio erano la stessa cosa le parole che egli le disse dovevano venire a compimento poiché era il così dice il Signore così è oggi che il pane di vita di cui si nutrono i figli segue il messaggio di Dio per sostenerli durante il tempo della siccità quella stessa parola è venuta a noi ed è in noi e noi stiamo cibando delle stesse segrete delle cose segrete di Dio che sono nascoste al mondo egli ci ha rivelato che il messaggio e il messaggero sono uno il cibo spirituale è pronto ed è ora nella stagione siete benvenuti ancora una volta ad un altro giorno memorabile per la sposa prenderemo il nostro orciolo dell'olio ed esso traboccherà poi raccoglieremo il vaso di farina ed esso sarà pieno fino all'orlo saremo seduti insieme da tutto il mondo nei luoghi cenesti nascosti nel nostro luogo segreto regrandoci della manna nascosta mentre Dio rivendica se stesso a noi venite a riunirvi con noi nell'ovile domenica le due di pomeriggio fu sorario di Jefferson mentre ascoltiamo il messaggero di Dio portarci il messaggio di Dio cibo spirituale nella stagione dovuta 65 07 18 E avevamo un dollaro e 80 centesimi per costruire un tabernacolo molte persone dell'autorimessa avevano stabilito che sarebbe stata la loro autorimessa ma è ancora un ovile per le pecore di Dio fratello Joseph Brana e le scritture la scrittura è da leggere primo re Amos capitolo 3 versetto 7 Malachi capitolo 4 versetto 4 Luca capitolo 17 versetto 30 San Giovanni capitolo 14 versetto 12 e vorrei dare un piccolo speciale regalo che è arrivato dalla posta per i ragazzini stavano facendo qui i quiz sui nastri e si sono iscritti alla Young Foundation hanno ricevuto un box per lo Stillwater Camp qui a casa e qui la mia nipotina l'ha ricevuto oggi insieme agli altri nipoti credenti cristiani che sono qui sul quiz sul nastro della Young Foundation e sono tutti iscritti qui e come e quindi se non siete iscritti dovunque voi siate nel mondo condividetelo questi bambini stanno ascoltando uno o due nastri al mese stanno facendo dei quiz sul nastro e stanno avendo il quiz dei suoi nastri dalla Young Foundation e nessuno di loro è rimasto fuori ringraziamo il Signore ma vogliamo che tutti i bambini fosse possibile per tutti i bambini ascoltare che i genitori iscriviate i vostri figli pastori madri padri iscrivete i bambini alla Young Foundation e fate i quiz sui nastri e farlo ogni mese se ottenete questi piccoli trofei sul nastro e siamo di certo felici e ringraziamo il Signore la Voice of God e il fratello Joseph e quelli che lavorano e dedicano la loro vita al Vangelo ebbene è per voi e per me per le nostre famiglie i nostri figli i nostri cari e quindi ringraziamo il Signore per questo e quindi Dio vi benedica e abbiate un meraviglioso fine settimana dalle lettere rosse fine alla prossima volta Dio vi benedica e shalom grazie a tutti